Dopo il grande successo dello scorso anno, il 23 e 24 giugno torna la Balbo & Co Golf Cup. L'edizione 2017 si terrà per il secondo anno consecutivo al Circolo Golf di Salice Terme, splendida località turistica immersa nel verde dell'oltrepo pavese. Anche quest'anno, grazie alla grande attrattiva del golf, lo sport più diffuso e popolare su scala planetaria e alla risonanza mediatica ottenuta su affermati quotidiani e settimanali sportivi e media nazionali, la Balbo & Co Golf Cup rappresenta una straordinaria ed efficace strategia di comunicazione pubblicitaria. Per questo le imprese di ogni tipo affidano al golf il loro messaggio promozionale, attirando l'interesse di un pubblico molto vasto. Venerdì 23 giugno, antecedente la Balbo & Co Golf Cup 2017, si terrà la gara di kart, valida per la combinata kart & golf, che quest'anno sarà sponsorizzata per la prima volta dalla Barrington & Partners. Ecco alcuni degli sponsor che hanno già colto l'opportunità di sponsorizzazione della Balbo & Co Golf Cup 2017. Per maggiori dettagli o d'opportunità di sponsorizzazione, non vi resta che visitare la sezione Balbo & Co Golf Cup sul sito www.balboandco.it